Buona domenica, ben trovati al TG6 la settimana. Lunedì è iniziata la rimozione dei rifiuti tossici che ostruiscono via Aneli a Bolognano. Le analisi sul terreno hanno dato esito preoccupante e ora si attendono fondi ministeriali per continuare la bonifica. Ascoltiamo. Arsenico, cadmio, cobalto, piombo, rame, zinco, pirite. Questi rifiuti industriali trovati tra il cumulo che da dieci anni intasa Via Aneli a Bolognano, appena fuori dal sito di interesse nazionale delle discariche tra piano d'orta e bussi sul Tirino. Siccome, seppur per pochi metri, Via Aneli non rientra nel SIN, la rimozione non sarà pagata da Edison, giudicata in Cassazione responsabile del disastro ambientale. La regione ha stanziato 100.000 euro con cui sono state rimosse 155 delle 285 tonnellate di rifiuti tossici e ora si cercano fondi ministeriali per continuare la rimozione. I valori sono talmente alti da raggiungere criticità sia per quello che riguarda la tossicità dei materiali, l'ecotossicità e anche il rischio cancerogeno. Quindi adesso dobbiamo intanto finire a togliere quel cumulo, mettere in sicurezza eventualmente la strada e poi spingerci col ministero a cui sono stati già trasmessi i dati raccolti per avere i finanziamenti necessari all'estensione del sito SIN a tutta l'area che abbiamo visto essere interessata dai rifiuti contaminati. Intanto la preoccupazione è che le sostanze lì sepolte possano spostarsi nel sottosuolo, contaminando anche altre zone. Quel cumulo di rifiuti fu abbandonato lì probabilmente tra il 2012 e il 2014 e da allora la strada è interrotta. All'epoca gli accertamenti delle forze dell'ordine non furono in grado di determinare gli autori dell'illecito. Il sindaco di Bolognano però non si arrende e promette di attivare ogni azione utile a individuare i responsabili. Sarà sicuramente adesso scatteranno dell'indagine da parte della provincia provinciale per capire se la parte sottostante a quei cumuli che stavano sopra quella strada pubblica sono tantomeno riconducibili alle stesse scorie inquinate che stanno all'interno del sito già oggetto di bonifica. Quindi si sta allargando a macchia d'olio la problematica dell'inquinamento sul sito ex Montecatino di Piano d'Orta. Ora andiamo ad interessare altri pezzi di territorio e nello stesso momento tenete presente che incomincio a preoccuparmi e che incomincia a diventare anche un problema sociale per i residenti che sono anni e anni e anni che oltre a vedersi depreciate le loro proprietà residenziali e quant'altro si vedono sottoposte anche ad un'azione sanitaria. Pescara per il secondo anno consecutivo porta a casa l'ambito riconoscimento della bandiera blu. 14 le città abruzzesi che potranno freggiarsi di questo titolo. Questa settimana l'annuncio ufficiale da parte della Fondazione per l'Educazione Ambientale. Per il secondo anno consecutivo Pescara porta a casa la bandiera blu. Grande soddisfazione per l'amministrazione comunale che potrà giovarsi per l'estate ormai imminente del prestigioso riconoscimento. Sono 14 le città abruzzesi che hanno portato a casa la bandiera blu. Oltre a Pescara ci sono Alba Adriatica che è la novità del 2022 e poi le altre conferme come Villalago, Scanno, Fossa Cesia, San Salvo, Vasto, Giulianova, Pineto, Rosetto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto, Francavilla al Mare e Martinsicuro. Significativo il bis di Pescara dopo la prima storica bandiera blu del 2021 come sottolinea il primo cittadino Carlo Masci. È sempre un'emozione grandissima anche se quest'anno è una conferma. L'anno scorso era la prima volta che avevamo tentato una sfida impossibile e ci eravamo riusciti. Adesso abbiamo la conferma perché abbiamo fatto molti passi avanti. Pescara è una città che si presenta sempre all'avanguardia con le operazioni legate alla sostenibilità ambientale e la bandiera blu è un marchio di qualità che noi otteniamo per il secondo anno consecutivo. Abbiamo un mare pulito, delle spiagge belle, un'organizzazione sulla spiaggia che è all'avanguardia ma abbiamo anche piste ciclabili, corsie preferenziali, zone pedonali. Questa è una città che ha puntato molto sulla sostenibilità ambientale e proseguiamo lungo questo percorso ottenendo dei riconoscimenti significativi. Questo della bandiera blu è il marchio DOC che tutte le città che vogliono ambire ad un livello più alto di qualità della vita devono ottenere e noi anche quest'anno l'abbiamo ottenuto. Non era facile ottenerla la bandiera blu l'anno scorso. Solo chi ama e conosce questa città poteva lanciare quella sfida, una sfida che ha avuto un risultato eccezionale. La conferma ci dice che siamo sulla strada giusta. D'altronde noi già avevamo avuto qualche sentore perché nei mesi scorsi l'organizzazione è venuta a Pescara per visionare la città e ci aveva dato segnali assolutamente incoraggianti. La conferma è arrivata oggi e questi segnali erano positivi, erano lusinghieri e il lavoro che stiamo facendo è quello giusto perché coinvolgiamo le scuole, perché coinvolgiamo i cittadini, perché questa è una città che sulla sostenibilità ambientale ha puntato tutto perché le città oggi si confrontano sulla qualità della vita e Pescara sicuramente ha una qualità della vita altissima per i propri cittadini. Per evitare code e disagi Autostrade per Italia ha accolto la richiesta della Regione di sospendere i lavori sul tratto abruzzese della A14 nei due mesi estivi. Il presidente Marsilio però è tornato a chiedere la terza corsia. Con una nota ufficiale Autostrade per l'Italia comunicato al presidente della Regione Marco Marsilio e al sottosegretario alla Presidenza Umberto Danuntis che verrà effettuato il fermo dei cantieri di lavori lungo il tratto abruzzese dell'A14 nel ponte del 2 giugno e in tutto il periodo estivo dal 24 giugno al 6 settembre. È stata così favorevolmente accolta la richiesta avanzata dalla Regione Abruzzo al fine di evitare code e i rallentamenti lungo il tragitto autostradale in occasione delle prossime vacanze. Apprezziamo l'impegno preso da Aspi al fine di garantire sicurezza e percorribilità dell'autostrada nel momento di maggiore traffico in occasione del ponte del 2 giugno e dell'esodo estivo hanno commentato Marsilio e Danuntis con il presidente della Regione che questa mattina nel corso di un convegno che si è tenuto a San Benedetto del Tronto è tornato a chiedere con forza ad Aspi la terza corsia sul tratto abruzzese dell'A14. La terza corsia io la considero un progetto fondamentale perché è inutile discutere dell'ammodernamento di questa arteria quando è ormai palese che è sottodimensionata rispetto alle esigenze di traffico che ne dicano spesso e volentieri i tecnici di autostrade è evidente che basta un piccolo rallentamento, un piccolo intoppo e si creano decine di chilometri di coda il risultato di un'arteria vecchia è superata un anno fa quando abbiamo discusso dei lavori in corso sull'autostrada ci è stato presentato una prima bozza di progetto per portare la terza corsia almeno fino a Pescara in questa prima fase chiederò conto anche approfittando di questa seduta per capire se quel progetto è rimasto nel cassetto o se Autostrade per l'Italia sta prendendo sul serio la spinta dei territori e anche l'indirizzo che gli dà del Ministero di andare avanti su questa progettazione e di inserirla nel loro piano delle opere Presentata all'ospedale Mazzini la nuova PETIN dotazione alla ASL di Teramo presenti anche i vertici della regione il presidente Marsilio e l'assessore Nicoletta Verì Oggi viene inaugurato un reparto importante di questo presidio ospedaliero che darà la possibilità a tutti coloro che hanno bisogno di avere una diagnostica importante di grande complessità persone che arriveranno non solo dall'ALS di Teramo da tutta la regione ma anche fuori regione questa capacità organizzativa ossia questa innovazione tecnologica affiancata da personale senz'altro darà la possibilità ad un incremento importante e soprattutto ridurrà la mobilità passiva che purtroppo abbiamo in questo campo in questo settore questo progetto fa parte di un progetto innovativo di tutta la nostra regione di quella che è la riorganizzazione delle attrezzature dell'innovazione tecnologica investiremo più di 32 milioni su tutto il nostro territorio affinché ci possa essere sempre di più l'appropriatezza nel nostro sistema sanitario Questi strumenti sono i primi in Italia e vengono installati a Teramo non siamo più, come dire, la regione o la provincia che arriva ultima nell'innovazione tecnologica nella dotazione degli strumenti siamo i primi in Italia a dotarcene è un indizio chiaro di come si è cambiato il passo nella sanità abruzzese e teramana e continueremo lungo questa strada qui a Teramo c'è ovviamente in programma il nuovo ospedale ma non solo a Teramo il nuovo ospedale è in programma ad Avezzano, a Basto, a Lanciano stiamo in attesa che il Ministero con il suo nucleo di valutazione termini la sua istruttoria pronti a firmare gli accordi di programma per procedere e impegnare i fondi che stanno da 20 anni fermi al Ministero e che nessuno è riuscito mai a mettere davvero a terra per realizzare le cose di cui abbiamo bisogno stiamo inaugurando uno strumento che già funziona criticamente già funziona e questo ci rende pieno di orgoglio ci rende pieno di orgoglio perché è una cosa che si desiderava da tanto tempo tanti l'aspettavano e nessuno ci credeva noi in un anno e due mesi abbiamo portato la PET a Teramo e questo grazie alla benegazione, al grandissimo lavoro di tutti gli uffici che hanno creduto e voluto questo nuovo strumento che consente a 2.000 cittadini della mano di non andare più fuori non solo e di essere attrattivi anche verso l'esterno Montesilvano e Spoltore chiedono di posticipare la data entro cui dovrà sorgere la nuova Pescara attualmente fissata al 2023 questo è anche perché i finanziamenti regionali non sono mai stati stanziati ascoltiamo nessuna contrarietà alla fusione ma semplicemente arrivarci con modi e tempi adeguati e per questo abbiamo chiesto alla regione di valutare un tempo congruo per realizzare quello che noi abbiamo appunto messo nero su bianco d'accordo con l'istituzione della nuova Pescara ma senza fretta i comuni di Montesilvano e Spoltore hanno approvato un'identica proposta in cui chiedono di prorogare l'attuazione della legge regionale 26 del 2018 la legge pone come limite per la fusione dei tre comuni il 2023 con la possibilità per i consigli comunali una sola volta di posticipare la data di un anno nelle scorse settimane però alcuni consiglieri regionali di centrodestra avevano sostenuto l'ipotesi di uno slittamento al 2027 in ballo infatti vi è anche il ruolo di presidente della provincia di Pescara attualmente ricoperto dallo scorso dicembre dal primo cittadino di Montesilvano nella stessa situazione Spoltore che tra i comuni che tra un mese andranno al voto dovremmo sapere se presentare un programma per i prossimi sei mesi o per i prossimi cinque anni dice il sindaco di Lorito al termine del suo secondo mandato ma manca chiarezza io credo che almeno almeno si debba avere un ulteriore anno se non ulteriori due anni ecco è chiaro che ad oggi c'è una sicuramente un vuoto normativo perché il comune di Spoltore come sapete sta tra un mese tornerà al voto e stando alla legge attuale il comune di Spoltore voterà per soli sei mesi ecco questo è lo stato in cui i cittadini andranno a votare e le forze politiche si apprestano a fare una campagna elettorale credo che innanzitutto questo vuoto vada colmato e vada detto a Spoltore se si vota per sei mesi, un anno e mezzo o addirittura cinque anni ecco e questo è in capo alla regione la facoltà di fare questo la nascita della nuova Pescara però è anche una questione di soldi dal 2018 la regione avrebbe dovuto mettere 300.000 euro l'anno a disposizione delle attività propedeutiche alla fusione ma finora ai comuni non è giunto neppure un centesimo a sbloccare la situazione però ci ha pensato il Parlamento la Commissione Finanze del Senato ha approvato all'unanimità l'emendamento a firma di Luciano D'Alfonso che stanzia 105 milioni di euro spalmati in 5 milioni per il 2023 e 10 l'anno per il successivo decennio a far chiarezza sulla delicata questione che riguarda la carenza di pediatri è intervenuta l'assessore regionale alla salute Nicoleta Veri nei giorni scorsi il Partito Democratico aveva chiesto spiegazioni vediamo non trova pace la situazione sulla carenza pediatri negli ambiti territoriali della Val Pescara e dell'area Vestina a far chiarezza dopo le proteste dei genitori a cui hanno fatto eco le accuse del Partito Democratico ci ha pensato l'assessore regionale con delega alla salute Nicoletta Veri la regione ha sempre messo in campo ogni azione utile per sopperire alla carenza di pediatri di libera scelta le parole dell'assessore e continuerà a farlo anche alla luce del nuovo accordo nazionale sottoscritto pochi giorni fa la regione nel rispetto degli accordi sottoscritti con le organizzazioni di categoria sta cercando di trovare una soluzione definitiva per questo l'assessore Chiama in causa anche il governo nazionale e il ministro Speranza a cui è stata inoltrata una richiesta di parere che al momento non hanno ricevuto risposta il nuovo accordo nazionale conferma il precedente rapporto ottimale con l'istituzione di un pediatra ogni 600 bambini di età compresa fra 0 e 6 anni senza alcuna novità rispetto al 2005 la nuova intesa prevede che le regioni possano modificare questo rapporto ma solo nell'ambito dell'accordo integrativo regionale che deve essere dunque sottoscritto anche dalle organizzazioni di categoria dei pediatri prevista anche l'istituzione di nuove sedi a livello di singole asle ma sempre dopo il parere del comitato aziendale ma in questo caso prosegue l'assessore Veri e facile il rischio contenzioso va sottolineato come il rapporto tra i pediatri e le asle non è di dipendenza ma di convenzione dunque non c'è nessun obbligo nella scelta delle sedi di destinazione e così complice anche il calo demografico a risentirne sono soprattutto le aree interne per questo in sede di rinnovo dell'accordo integrativo regionale verrà sottoposta anche l'opportunità di rivedere i rigidi parametri per l'istituzione di nuove sedi l'assessore infine rimanda al mittente le accuse il partito democratico sta interpretando le disposizioni a piacimento è stata raggiunta Marsiglio per la prima volta a trovare un'intesa per aumentare il massimale dei singoli pediatri nelle aree dove si registravano disagi dopo la richiesta di Montesilvano e Spoltore di posticipare la fusione anche il sindaco di Pescara Masci è intervenuto sulla nascita della nuova Pescara secondo il primo cittadino i tempi previsti sono sufficienti per l'unificazione dei tre comuni vediamo io penso che in due anni si possano coordinare tutte le esigenze e si possa realizzare la nuova Pescara e quindi se lo chiede da me questa è la mia risposta Pescara si dissocia da Montesilvano e Spoltore i due comuni cosiddetti minori chiedono più tempo per la fusione ma per il sindaco del capoluogo non c'è alcun motivo valido per la proroga in base alla legge regionale del 2018 infatti la nuova Pescara dovrebbe sorgere entro il 2023 i tre consigli comunali hanno la possibilità di posticipare la fusione una tantum di un anno Montesilvano e Spoltore però chiedono almeno altri due anni aggiuntivi necessari all'unificazione dei servizi dalla polizia municipale alla raccolta dei rifiuti c'è qualche divergenza nel senso che io ritengo che la legge regionale debba essere applicata in pieno e che quindi l'ultimo termine debba essere quello del 2024 come previsto nella norma se ci saranno le condizioni per superare il 2023 che è la prima scadenza prevista attualmente dalla legge regionale gli altri due sindaci ritengono che sia necessario più tempo per poter realizzare la nuova Pescara e questo hanno chiesto alla regione ovviamente la valutazione sarà regionale perché la legge è regionale perché il processo è regionale di fusione io ritengo che questo processo possa essere concluso positivamente entro il tempo stabilito dall'attuale legge regionale ovviamente se si cambierà la legge regionale mi adeguerò Il rettore dell'università Danunzio di Chieti sta avviando una partnership con le università albanesi per scambi di studenti e competenze ascoltiamo i dettagli A breve io ho un incontro a Tirana con il primo ministro e con i ministri dell'istruzione e della sanità per fare degli accordi bilaterali tra la nostra università e l'Albania stiamo studiando dei progetti nuovi da fare accogliere da una parte gli studenti che vengono da quel paese dandogli delle forti agevolazioni come abbiamo fatto anche con gli studenti afghani e ucraini e stiamo vedendo anche di fare delle lauree a doppio titolo tra i due paesi quindi avrò questi incontri speriamo di riportare a casa qualcosa di positivo Quindi proprio non solo scambi ma proprio una partnership? Assolutamente sì una partnership istituzionale che proporremo proprio al governo di Tirana Adesso cambiamo argomento parliamo di sport si è chiusa giovedì la deludente stagione del Pescara costretti a vincere per superare il turno i biancazzurri vengono invece battuti a Salò dalla Feralpi per 2 a 1 inutile la rete nel finale di Clemenza dopo quelle di Guerra e Siligardi che avevano indirizzato il match verso i Leoni del Garda all'inizio ripresa vediamo Termina sulle rive del Lago di Garda la stagione del Pescara che con la Feralpi esce dai playoff dopo il 3-3 dell'andata ci sarebbe voluto un miracolo che però non è arrivato nonostante la generosità vista anche in terra lombarda ma non sempre in campionato nella stagione regolare passa il turno così la squadra di vecchi che aveva due risultati a disposizione che ha tratto giovamento anche delle assenze in casa biancazzurra e dalle condizioni non ottimali di molti giocatori del Delfino seppur in formazione rimaneggiata il Pescara però ci ha provato Delfino in campo con il 4-3-3 in attacco c'è Dursi dopo l'accoglimento del ricorso ospiti con il 4-3-1-2 in porta c'è Liverani al posto dell'infortunato De Lucia a sorpresa Di Molfetta va in panca avvio con piglio deciso dei biancazzurri che spingono subito forte gara nervosa in campo sin dall'inizio con il tecnico della formazione lombarda ammonito per proteste dopo 10 minuti la prima emozione del Turina arriva al 17esimo quando su cross dalla destra di Miracoli Balestrero va a concludere da posizione pericolosissima mancando il bersaglio grosso di un nulla al 20esimo Siligardi per i locali con un missile dopo un errore di Giambò colpisce la parte alta della traversa della porta di Acubucci secondo campanello d'allarme per il Pescara con la Feralpi che cresce gradualmente costringendo i ragazzi di Zauri alla difensiva al 23esimo ancora Siligardi da prima del limite mette la sfera sopra la traversa soffre soprattutto a centro campo il Pescara che pur facendo possesso palla non riesce a pungere con Liverani ma è impegnato al 41esimo l'estremo difensore di casa viene però salvato dal palo con Cernigoi che dopo un'ottima apertura di Inzita è sfortunato andando a colpire i legni della porta Lombarda al 42esimo la risposta locale affidata a Carraro che sfiora il montante della porta abruzzese tutto qui il primo tempo con l'inizio di ripresa equilibrata fino al sesto quando dopo un'azione insistita la palla termina a guerra che con una conclusione a mezza altezza supera Iacobucci per l'1-0 Lombardo festeggia l'attaccante sotto la tribuna del Turina mentre scende il gelo in casa abruzzese all'undicesimo così ancora la squadra di Vecchi con Miracoli ammaccare il bis che arriva poco dopo l'ingresso in campo di Ferrari e Clemenza per Raudi e Memuschai e Sili Gardi al 14esimo infatti a bucare ancora la difesa pescarese segnando il raddoppio che fa di fatto calare il sipario sulla stagione del Pescara male il Pescara vittima dei suoi limiti al 18esimo ci prova Iglianes sugli sviluppi di un angolo con la palla che finisce fuori la prima parata del portiere di casa arriva così al 21esimo quando Liverani devia in angolo un tiro velenoso di Pontisso troppo poco per il Pescara che perde coraggio e soprattutto la consapevolezza di uscire ormai dai playoff il trascorrere dei minuti infatti avvicina solo il passaggio del turno dei padroni di casa anche se al 29esimo Luca Clemenza su punizione fa 2 a 1 rendendo la pillola un po' meno amara anche perché poi fino al 95esimo non accade praticamente più nulla con il Pescara che perde per 2 a 1 e saluta la stagione e da domani si inizierà a pensare al prossimo torneo e al futuro con tanti punti interrogativi anche sul fronte societario in attesa di capire se e quando arriverà un eventuale cambio di proprietà con una squadra comunque sia totalmente da rifondare la piazza di Pescara merita di più Saranno i campi del Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo ad ospitare le gare degli europei di calcio a 5 non vedenti dal 1 al 17 giugno vediamo Si terranno in Abruzzo i campionati europei di calcio a 5 B1 non vedenti l'evento in programma a Città Sant'Angelo in provincia di Pescara dal 1 al 17 giugno nei campi del centro sportivo Poggio degli Ulivi la manifestazione è stata presentata in settimana a Roma nella sede del Comitato Paralimpico Italiano alla presenza tra gli altri del presidente del CIP Luca Pancalli e del presidente dell'IBSA International Blind Sport Federation il teatino Sandro Di Girolamo nell'occasione sono stati effettuati anche i sorteggi della competizione l'Italia è inserita nel gruppo A affronterà Francia Turchia Grecia Repubblica Ceca nel girone B ci saranno invece i campioni d'Europa in carica della Spagna l'Inghilterra la Germania la Romania e la Polonia nella prima settimana di giugno spazio al calcio femminile con le sfide tra Germania e Inghilterra per il titolo europeo e con il Campus IBSA a cui prenderanno parte 15 giovani calciatrici provenienti da numerosi paesi europei il 10 giugno via al torneo maschile con la partita inaugurale mentre la finalissima è in programma il 17 giugno è un evento molto importante che darà visibilità a IBSA al calcio non vedenti al nostro paese ha commentato il presidente di Girolamo l'obiettivo ha aggiunto il presidente del CIP Pancalli ovviamente quello non solo di migliorare il buon sesto posto ottenuto nel 2019 ma anche e soprattutto quello di qualificarci per le Paralimpiadi di Parigi 2024 con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti